Firenze e Scandicci Provenendo da Livorno e in uscita a San Minato e a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze Per la viabilità cittadina a Firenze e in Viale Gramsci fino al 23 dicembre In orario 9.19 sarà chiuso il controviale tra Via Beccaria e il numero civico 4 Infine per i treni a causa delle avverse condizioni meteo La circolazione sulla linea Siena-Grosseto per la giornata di oggi sarà sospesa Ed è tutto, buon viaggio! Grazie